Salve a tutti signori e benvenuti a una serata dove avevo voglia di giocare a showdown e quindi gioco a showdown Così, più a freddo di un coming out Esatto, e qui con me c'è Daniele Melons E oggi faremo un paio di random battle giusto per impostare Io sono quello che ti dà le visual, sapete Sì, sì, siete in pochi a farlo Ok, bene, abbiamo già il leggendario, vediamo il film Uh, beware, ok, è l'iPhone questa cosa Member Cerchiamo di tradurre per quelli a casa Ah sì, vabbè, perché noi abituati all'inglese, mentre gli altri... Ok, allora, questo esplode tanto, avrà esplosione, perciò... Non ce l'ha però No, no, Vanidux, dico, avrà esplosione Fanno fuori subito con Fireblast Uh, Rotom, che carino Non gli ho fatto neanche niente Avranno un sospetto, probabilmente, se no non avrebbe cambiato Eh, beware allora Eh, vai, così... Gli switch tattici Hai qualcosa contro di due, Shadow Claw Shadow Claw, giusto, giusto Io forse avrei fatto Sword Dance Danza a spada sarebbe Sword Dance Sword Dance e Danza a spada, Shadow Claw sarebbe Ombra Artigli Ah, bravo, avevi ragione Vabbè, Hammerham sarebbe Martel Pugno Sì Poi Hammerham sarebbe... Braccio Martello Braccio Martello Che traduzione del cazzo, Braccio Martello Sono monetizzato, ho detto una parola Tanto non sono monetizzato Ah, ha fatto un errore E' esploso Porygon 2 No, è Z, era Porygon Z Sì E iniziamo col primo racecut di tutta la serie Bene, vediamo quante win ci portiamo nel primo video Vabbè, andiamo con la seconda partita Ovviamente cercherò di portare sul canale anche qualcosa di un pochino più competitivo Oh, molto bene Ma non c'è neanche da dire Fai flare blitz Ma no, secondo me switcha, non è così stupido Visto, oh cazzo Eeeh Tu hai il charger, lo porti a casa Penso abbia poche difese Sì, ma effettivamente dovrebbe essere più veloce No, sono più veloce io La Stefano, vedi, non l'ho mai catturato ancora La Stefano più che altro io non l'ho... Sì, vabbè, sei stupido però Stupido Cioè, devi essere proprio un genio Meraviglioso Non è che abbia molta abilità rapida, c'è Ma come hai visto che ho il charger Cioè, vabbè, facciamocelo morire Uno di... Sì, infatti Cioè, dai Pure il critta Scusate Non si critta Ouch Dovrebbe essere illegale Eeeh Guardiamo un po' chi abbiamo Perché non ho controllato Di nuovo Tornados Ce l'avevamo anche poco fa Invece il cursore Invece il cursore 169 Massimo Eeeh Controlla Praticamente tutti Tutti lo passano Tranne Empolio Ok, quello che si... Ai Earthquake Andiamo di Sock Ai Earthquake Controlla se ha Power Up No Ah, Bull Cup Sì, fai Gran Fisico Tanto non dovrebbe avere niente Che ti rompe le palle A meno che non ha Coda Drago Da piccolo Gran Fisico La chiamavo Gran Fisco Paga Paga Eeeh Fai... Earthquake Tanto Non mi spreco un Close Combat Ecco Che sarebbe zuffa Che sarebbe zuffa Perché poi mi diminuiscono le difese Ed è un casino Ok Ma ha Star di Sock Sì A vigore Penso che a quest'attuale Abbiamo Old Break Non c'è Qua scritto Scritto Ah, ok Ok Che cagata Perché? Vabbè Random Battle Quindi cosa pretendi? Ma io... Io pretendo che questo si muova Ah, Bull Eeeh 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 Ti tocca fargli zuffa Eh, ma non gli fa male, cioè Sì, normalmente efficace Non... Vabbè Eeeh E tu sei un genio però, eh Ci congelava Eeeh Se ci congelava mi mettevo a piangere Non so se... Penso muoia Penso muoia anch'io, cioè Bene, bene, bene Ho ancora l'attacco bustato Sino a prova contraria Ah, bene C'è l'ho pugno Mi dispiace Warmadam Tipo esplode Warmadam Uno dei Pokémon più dimenticati da Gesù Cristo Cioè Ah, resist... Nooo Ahahahah Mi dispiace Eh, ma anche tu Sono anche un bastardo Come farsi odiare, no? Questo si chiama cyberbullismo Non fatelo a casa Fatelo tutti a casa Nooo 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 Buttalo giù subito Che sia troppo tardi Dubito che ormai sia troppo tardi Dai, l'attacco raddoppiato Hai ragione Cioè Ormai È difficile che perda Più che altro Ciao Revis È stato bello Stare in compagnia Questo mi ricordo Il video Della Casa Blu Dove c'è il topo Che la fine La festa è mia Eh, vabbè La vita è fatta di scale C'è chi scende C'è chi sale Come disse Eh, vabbè Tua madre No, fagli ai spazi Tanto hai scarf Oh, merda Penso sia scarf Perché ha fatto dracomigio? Non lo so, però Allora, allora Vediamo Oh, merda A freeze dry Oh, gli facciamo il 4x con freeze dry Se siamo più veloci, ovviamente Spiego un attimo a quelli da casa Freeze dry dovrebbe essere quella lì Che fa super efficacia Ai tipi acqua Lui essendo sia di tipo acqua Che di tipo drago Si prende 4 volte il danno da questa mossa E non è morto con un attacco Oh, cazzo Vabbè Lui ha l'attacco speciale scelto Ah, vabbè, sì Per Dragobu Che già tanto si è già colpito Poi lui ha Comunque Krayogonal È una buona difesa speciale Non è così Scarso Più che altro Krayogonal È l'unico Pokémon Assessuato Che impara attrazione Non può usarlo Per questo piange Per questo piange È triste Non si può Guarda che non funziona l'appi sulla tastiera Io ti ho aperto Secondo me Per deprima È letta Che poi guarda che Figuel Migueroa Mi sa tanto di nome spagnolo Scusa Hola Que Tal Hola Que tal Come Dovresti metterci un punto Di domanda Cazzo Gli spagnoli iniziano col punto di domanda Al contrario È un casino Oh ma questo non gioca Vuole far scadere il tempo Quanto manca? 90 secondi Importuniamolo Eh Ah pure Infiriamo Dai Gli ho frozenato War Madame Avrebbe sicuramente vinto 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 Visto L'abbiamo sbloccato Ha leftato Che poi la prima volta che ho letto il suo nome Ho letto figura di merda Non so Ragazzi iscrivetevi al canale di Figuelmi Che In cui ero a Sicuramente voi dal video lo vedrete meglio Tra l'altro non mi ero neanche accorto Che sono col mio vero account Farò vedere che icon hai Oh quella del ciclista Che banale Banale Perché chi cazzo la usa? Facciamo una random in doppio Ehm Va bene Ah Qui è difficile Qui ci sono davvero le parolacce Qui c'è C'è la menare Più che altro Perché ti capitano i pokemon Che non stanno un cazzo bene assieme Oh è uscito il video di youtube Vabbè Fantastico In diretta Andate a guardare lui Al posto di guardare me State solo sprecando tempo Come se fossimo in live Bene 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 Perché Non hai una mossa d'attacco Vabbè Faglielo su quasi Di che tipo è? Normale Folletto Giusto? Lui? Sì Ehm Abbiamo Reshira Ok Abbiamo Reshira Ma contro di lui Non serve Contro di lui è mega Sì è mega Però metti estero Dici Sì Mi curerei protezione Mi curerei da Wiglith Da Wiglith Scusate E attaccherei Quagsire Psy shock Ti ricordiamo L'unica Mossa speciale Di tipo psico Che Infligge danni In base alla difesa Magari sia un attacco speciale Ebbè Questo è il forte Di Psy shock Tra l'altro Nel meta Si sta utilizzando parecchio Perché C'è Kyogre Che è molto Impuntato Sulla Fisicità C'è Sulla Sullo speciale E quindi Su difesa perde E Si utilizza così Se non sbagli L'unica statistica Che è sotto il centro No l'attacco Forse Comunque è minore Dalla difesa speciale Ma non è Non è l'unico Il tipo ha leftato Ha già leftato 30 secondi Nota Il bel nickname Questo Prova a dirlo Shri Z Z Z Z Z Z Z Z T Non ha Una Fottuta Vocale La cosa Mi preoccupa Che poi il timer L'ha impostato lui Non posso neanche stopparlo Volendo Si lo puoi stoppare Solo che è automatico Quando uno Si Abbiamo vinto Siamo ancora imbattuti Che bello Facciamo che il video Chiude la prima Sconfitta Ninja no Eh Tiratela di meno Tanto la cimena Probabile Oh il pokemon Che non shotta Neanche a pagare Rampardos E Drampa Contro Melovetta E Questo è interessante Abbiamo un team Che se togliamo Qualche sai Relicero Che Possono tranquillamente Sare tutti Shotati Da Rampardos Allora Vabbè allora Facciamolo fuori Tu che dici One shot Cattivissimo Oh gran voce Mamma mia Si l'ho visto Tra l'altro è stab Con lei Seren Grace Oh Gesù Come Giraci Giraci Che bel pokemon Madonna Beh Intanto che riempiamo il vuoto Qual è il tuo pokemon preferito Signor Daniele Eh Regiroc Regiroc Come mai Questa scelta Peculiare Di avere un Regiroc Come amico Perché quando ero piccolo Non riuscivo a battere La torrelotta Di Zaffiro E ce l'ho fatta Grazie a Regiroc Triste vero Merda Sei un deficiente Questo è perché ti dici Dai Fai gran voce Falli fuori entrambi No Eh non proprio Eh si Vabbè Si No 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 Che vuol dire E adesso si fa le connette Non voglio perdere così La prima partita Ok Siamo ancora in gioco Ok dai Ci siamo Ci siamo Mamma mia Ogni volta mi fa prendere un colpo Allora Fai gran voce Gran voce E freeze dry su Drampa Direi che è supericoloso Eh Abbiamo letto anche la protect Quindi direi che siamo a posto Drampa dovrebbe morire Si spera Ok No perché è parecchio grosso qualcosa È davvero forte E adesso ti metti Pidgeot Lo mega evolve E fai hurricane su Winsicot Che non puoi fallire Hai messo Pidgeot Si si ho messo Pidgeot Perché Pidgeot Non lo difesa Quindi come abilità Tutte le mosse Mega Pidgeot Sue Ed è l'avversario Non possono Non possono mancare Guarda come si pidgeot Lui però ha Fake out Fake out E fai un freeze dry Anche di sicurezza su Winsicot Che è sempre pericoloso No 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 Bene Credo che questo sia Luigi La connessione Fa così E mi ama Perché son Luigi Ah ritorniamo E freeze dry Ok Giusto 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 Ciao Giustissimo Eh vabbè L'altro va Adesso l'ha detto Che comunque Non sono simpatico D'annettolo Ah l'è stato Bene Abbiamo vinto Per abbandono Tra l'altro Io Non avendo mai giocato Qua Avevo le statistiche Della Random Battle Double Ancora a mille E queste sono le prime due partite Che faccio Continuiamo in singolo O in doppio Ma io direi del doppio Tanto alla fine Poi Le prossime volte Che porterò Shodown Penso di farlo nel doppio Congratulazione Hai premuto sul singolo Perché sei un handicapato Perché sono un genio Però posso cancellare E andare Vedi No Visto La tecnologia di Youtube Visto Visto Solrock Che non è presente In Pokémon Sole La cosa mi dà parecchio fastidio Vagli Sgranotto Io direi che faccio Terremoto E switcho in Tornadus Ma Solrock ha levitazione E fallo mega Sono un idiota E fai E faccio No E fai Retromarcia Supurugli Paragli Si chiama Paragli Ah Te l'ho fatto anche del bene Poi cazzo Era più veloce Paragli Non mi monetizzano Tanto Non ora No Bene Oh Thor Tro Thor Tro Li manca soltanto Il martello Per il resto Già Allora Ti mandiamo Neanche il tempo di pensare Ti ringerà Certo Slowbro Il migliore Quanto cacchio è lento Tiranitar Troppo Ma più che altro Quanto cazzo è veloce Solrock Ma forse l'abilità sotto la sabbia L'abbiamo velocizato No all'alentazione E allora a sto punto Cambi perché te l'ho shotta Con una mossa di tipo Ehm Andiamoci Bene Ma ti torna a due Mi metto torna a due Se faccio Psy shop su Tro 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 Fine Si polvo con lo vada che lavoro Tro 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 E non è morto Vabbè che attacca sulla difesa In effetti è normale che non sia morto Eppure è bruciato Ah Ha abbandonato Va bene Si chiama Via Villain Cioè diventa malvagio O diventa un cattivo Dai ora prendo io il timone Dammi 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 Insomma Prendo io il timone Ne facciamo una Insomma Eh perché tu adesso Sei un bel bravo Ne l'hai singolo Solo perché avevi un Geud Perché non ho voglia di stare a pensare Oh Gesù Mamma che bello Gazzolo Ma abbiamo Keckleon A Yammerarm Li fai un per quattro Devo dobbiamo avere studi Quindi prima non fu Ehi tanto E dire che è un pokemon Con molta difesa Bestiedone Gli abbiamo levato molto Abbastanza Ciao grazie E' stato bello Stare in compagnia E morì Così Oh E però ci ha Tossizzati Intossicati Intossizzati Oh eh Oh eh Molto sarda Come cosa Vabbè a quel punto Se siamo lenti Come lo schifo Spara Un konokov E stab E hai l'attacco Boostato Ma io penso che ci uccida Con un terremoto Ma non penso Con breccia No No a geloraggio Che sto dicendo E vabbè Si farà geloraggio E noi mandiamo registri Dici Mmm Hai visto? Però hai perso il palloncino Eh anche questo è vero Ora ci farà terremoto E noi Mandiamo Sigiliff Tipo Psicos Un tipo veleno Si Ce l'ha Ah bene bene Possiamo Ben reggio Ah Anche meglio Bene Facciamo Cosmic Power Esatto Qui abbiamo pure Roost Che sarebbe Trescolo In modo tale Che non ci faccia Troppo male Con geloraggio Cosmic Power In italiano Ehm Cavoli Il nome è così Stupido Cosmo Forza Cosmo Forza Proprio Traduzione base Ma come ci ritrova Non ci può neanche Con gelare Facciamo di nuovo Cosmic Power Tanto ce lo possiamo Permettere Siamo più veloci Ora rifacciamo Roost Oltre a Curarti Tra l'altro Trescolo Ti fa perdere Il tipo volante Ciò ti rende Immune Diciamo a geloraggio Come super efficacia Ci rende Normalmente Normalmente Efficace Normalmente efficace Esatto Io penso Che stia valutando Uno switch Ma perlone tutto Riguadagnato Così ci recuperiamo La vita E possiamo fare Un altro cosmic power Volendo Esatto Inoltre L'abilità Di Sigiliff Ci permette Di non venire Dandoci Dalla bruciatura Se non sbaglio Eeeh Contro un attimo Come del nome Mageguard Eeeh Proprio quello Eeeh Storage power Toglierebbe 100 Però voglio fare Un'altra cosa Ma si Tanto ce lo possiamo Permettere Quelli erano Gatti che litigavano Non ti preoccupare Miauuu Ti sentiranno Nel Non lo so Ma in caso Ho perdito Eeeh Dai se questa qui Finisce senza vittime Stavo per Se finisce senza vittime E' stato un piacere E' stato un piacere Stare con voi Eeeh Ancora i battuti Seguiteci Finchè Finchè Non ci battono Quindi appena inizio a giocare All VGC 2018 Tanto questo video E' senza tagli Quindi Non c'è trucco E non c'è inganno Volete guardare anche L'orologio Ve lo beccate così Eeeh Eeeh L'orologio non lo beccano Eeeh Riprendessero la finestra Non ho detto niente Allora Eeeh E vabbè Signore e signori Eeeh Questo era il primo Di tanti Spero Video su Showdown O è uscito il video Di ottobio Iottobio Adesso Vi lasciamo Eeeh Buona serata a tutti Ciao Ciao